Musica Buonasera ragazzi Questa volta selezionano bene i bussanti del mio come si trovano Cominciamando ognuno al suo modo Cioè a piacere con uno Ragazzi dove la... Non so Vuoi provare la video? Niente Sì 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 Tiro manuale? No Sì Non lo so Non lo so Non lo so Facciamo avanti Non lo so Non lo so Non lo so Ma lo so Secondo me si è Non lo so Ma ci hanno avvenzato il tiro non so che perché cazzo esce un gol e ciò è un monstro non c'è una stagna a votare dai iniziamo facciamo guardi 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 si è che io ho messo avanzate e poi il bello zio è passato c'è il passaggio nuovo 2-1-1 guarda tu poi andiamo da giugno è buono non si vanno più se a traccia tu con me non ci va vai per monaco quindi però non lo sai non lo sai non lo sai no non ci vediamo quindi si se è dovuta vedere se non è ha chiuso no 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 Non asce? Mi sono visto in qualche modo Ci perché faccio la mano non ci sia lo stesso E' un nuovo caso che accademono Di questo modo Il modo ragazzo di una molto reale Non ci sia il lunedore Ma stiamo ora Non è quello che si No! no 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 no, non lo che c'è più non lo sai ma puoi non lo so ma puoi, è un po' puoi non lo so non lo so non lo so non lo so che vuoi non lo so che vuoi non lo so a me senti solo mi sono venuto ma lei mi ha malo o devo andare avanti non so 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 non binding Sì, non c'è zero. le piociole se ne such fastidio eeeh eeeh paradide stai stan eeeh eeeh stava uo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.